Nasce a Napoli il primo progetto di formazione sportiva per ragazzi autistici. Nell'ambito del progetto Costruiamo Comunità 2024 lo promuove la Fondazione Campania Welfare, come sottolinea il Presidente Antonio Marciano. La Fondazione, grazie anche al contributo dell'assessorato regionale alle politiche sociali, dà un finanziamento di 20.000 euro. Per noi questa è un po' un'esperienza start-up, un'esperienza pilota, perché l'obiettivo è avere più ragazzi per il prossimo anno e dunque anche più risorse che metteremo a disposizione con grande convinzione per questo progetto. Il duplice obiettivo, anche aggiunto il Direttore Generale, Gavino Nuzzo, va nella direzione di chiedere al legislatore di cambiare la norma che prevede l'assunzione di persone disabili, inserendo in queste quote anche soggetti con spettro autistico oggi non contemplati. Tutto il percorso è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa moderata dalla coordinatrice del progetto, Eliana Acampora, e sarà realizzato in collaborazione con gli esperti del CONI della Campania e i docenti dell'Università Federico II di Napoli. Le parole di Sergio Roncelli, presidente del CONI Campania, e della professoressa Carmela Bravaccio, neuropsichiatra infantile dell'Università Federico II di Napoli. Noi attraverso la Scuola Regionale dello Sport faremo proprio formazione sportiva per riavviare questi ragazzi anche nel mondo del lavoro sportivo, come supporto agli istruttori nelle palestre. Sarà una formazione che durerà circa sei mesi e alla fine valuteremo con un test sia di ingresso sia finale se hanno acquisito le abilità per poter essere aiuto assistenti.